Tecnologia e sistemi per il consumatore, questa è la sezione, la categoria che l'ha premiata. Quello che vorremmo sapere è l'efficacia della terapia, la sicurezza e l'usabilità, come si incontrano in maniera particolare nel vostro device? Parliamo innanzitutto della patologia, l'asma e la BPCO che sono patologie molto rilevanti dal punto di vista sociale, quindi parliamo di migliaia di pazienti. Queste migliaia di pazienti oggi hanno degli inalatori di disposizione che sono molto complessi da usare. La complessità nell'uso pregiudica anche l'utilizzo e la compliance del paziente, cioè l'aderenza del paziente alle terapie, causando molti danni dal punto di vista sociale e anche di salute. Questo prodotto di cui parliamo oggi è un inalatore che con soltanto tre azioni permette ai pazienti anziani o meno anziani di essere particolarmente attenti e particolarmente sia attenti al consumo giornaliero, quindi da quello poterne trarre il maggiore beneficio. In questo senso Cosmo Pharma sposa perfettamente il concetto di innovazione con la vostra proposta? Per me è molto bello che a consegnare questo premio sia stata la Presidente di Federpharma perché Federpharma, come tutti i farmacisti, sono i più vicini al paziente. Quindi il fatto che noi abbiamo costruito qualcosa per il paziente, che venga riconosciuto da chi è più vicino al paziente, per noi è anche una fonte di grandissimo orgoglio. Complimenti, buona serata. Grazie. Grazie.